Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un video informativo Per quanto riguarda un glitch dei soldi Un'esclusiva del mio canale Che vi porterò a breve nelle prossime ore Quindi rimanete connessi sul canale Per chi vuole conoscere questa esclusiva Sono due glitch spettacolari Sono due video che porterò in seguito nelle prossime ore Quindi se volete saperne di più Dovete rimanere per forza connessi sul canale Diffondete questo video ragazzi Perché questo glitch vale la pena È un bel glitch diciamo Non vi anticipo nulla Però con questo glitch potrete fare dei soldi E altro ancora insomma Diciamo così Altro ancora Quindi aspettate un pochino che editerò questi video Insomma il tempo di editare questi video Il tempo di portare questi video sul canale Con la speranza che vi piacciano Invece per quelle persone che mi hanno chiesto Il glitch della modalità regista Allora ragazzi Il glitch che voi avete visto Non è proprio una vera e propria modalità regista Ma è una È una sorta Diciamo di modalità regista Ma Non si possono fare i soldi Potete portare solamente Diciamo I caratteri del single player Nel multiplayer Nel tipo Trevor Michael Franklin Non ne vedo l'utilità Non so se lo porterò in seguito Però per il momento Diciamo Ho trovato questi due glitch Mi hanno aiutato a trovare questi due glitch E quindi Porterò questi glitch Poi nei video Daremo anche L'ingraziamento Al fondatore dei glitch Diciamo E detto questo Ragazzi Niente Ci sentiamo fra poco Per questo Per questi glitch Restate connessi sul canale Un saluto a tutti Al prossimo video